Confediamo che sul bando periferie il Parlamento possa su questo avere un pensiero di riflessione e al di là dell'aspetto politico che va accantonato, occorre tener conto del grande valore di riqualificazione delle città che accanto a quello delle aree delle gradate, che ha visto coinvolti tutti gli altri comuni del Paese dando un segno forte di una volontà comune, trasversale, senza appartenenze politiche e della voglia di riqualificare questo Paese. C'è la possibilità di farlo, lo dobbiamo fare insieme, senza guerre politiche ma nell'interesse dei cittadini.